Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente si registrano 3 km di coda tra Firenze in Prunete e l'allacciamento con la 11 in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti anche tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Vivio con la variante del Valico. In direzione Roma invece un chilometro di coda a causa di un incidente tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud. In Fipili a causa di lavori possibili rallentamenti per un restringimento con scambio di carreggiata tra Lastra Siegna e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Possibili rallentamenti a causa di un restringimento con scambio di carreggiata anche sulla 15 tra Pontremoli e Berceto. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!